Dal 1 luglio potrebbero restare a casa con l'incubo della disoccupazione. È il destino segnato per i 234 lavoratori della Globe Network Call Center dell'Aquila che ha la commessa per la Rete3. La società H3G che gestisce la compagnia telefonica ha infatti ratificato la rescissione dei contratti per il 30 giugno 2016. Per questo, in accordo con i sindacati CGL, CISL, UIL e UGL, è stata organizzata questa mattina una protesta nei pressi della Miternum sulla strada statale 17 davanti alla caserma Pasquali così da mostrare a tutti la paura e il dissenso per una decisione che potrebbe compromettere il futuro economico di tantissime famiglie. La location è anche strategica in virtù del passaggio in queste ore del Giro d'Italia. Qualche novità comunque si attende martedì prossimo a Roma, dove è in programma un vertice tra i sindacati nazionali e la società H3G. Al nostro microfono Piero Francazio della UILM L'Aquila è un lavoratore. H3G ha deciso di lasciare questa azienda poiché hanno avuto dei problemi per quanto riguarda il piano di rientro del debito fiscale presentato o non presentato da Globe Network. H3G, da quello che sappiamo noi come segreterie nazionali, non vuole lasciare a piedi i lavoratori dell'Aquila e neanche l'Aquila. Però una cosa è certa, come organizzazioni sindacali presenti in questa azienda qui, non vogliamo assolutamente che venga verso un posto di lavoro. Dal 1 luglio siamo disoccupati, stiamo chiedendo aiuto allo Stato, alle autorità locali, a tutti quanti quelli che possono aiutarci, possono fare qualcosa per salvare 230 posti di lavoro. Siamo sulla Statale 17, direzione l'Aquila Ovest, c'è attesa per il passaggio della settima tappa del Giro d'Italia 2016 qui per l'Aquila. Tra l'altro vedete alle mie spalle già parecchia gente che si è sistemata sul ciglio della strada in attesa dei corridori. Come dicevamo, settima tappa del Giro d'Italia sul Mona Foligno, 211 km per i corridori con in testa ancora Tobolin, l'olandese, per il quinto giorno consecutivo in Maglia Rosa, un ritardo di oltre minuto per l'italiano Vincenzo Nibali. Sta spuntando la carovana di ciclisti, il tempo non assiste, come potete vedere, clima molto freddo, uggioso. Ecco qui i primi sei che hanno staccato il resto della corsa passano in questo momento tra gli applausi dei numerosi aquilani, si è creato un vero e proprio capannello al ciglio della strada, passano i sei con le altre vetture, adesso si aspetta il resto della carovana. Ecco qui la carovana del Giro d'Italia 2016, sta passando proprio alle mie spalle tra gli applausi del pubblico aquilano, un vero e proprio capannello sul ciglio della strada, stanno passando i corridori in carovana sulla strada statale 17, direzione Sella di Corno, Antrodoco, Rieti e poi via via verso la fine di questa tappa che sarà Foligno. Si è partiti in mattinata da Sulmona, i sei che hanno staccato la parte rosa della griglia già sono passati prima e adesso tutto il resto della carovana con gli ultimi della fila che state vedendo scorrere proprio in questo istante. Ricordiamo ancora in Maglia Rosa, Dumolin, l'olandese, quinto giorno in Maglia Rosa. Chiaramente si aspetta il sesto giorno consecutivo, tra gli inseguitori c'è anche il nostro Vincenzo Nibali siciliano che vinse proprio l'anno scorso il Giro d'Italia. Ecco qui le ultime macchine che fanno seguito alla carovana di ciclisti con gli ultimi in netto ritardo e via via si sta abbandonando la città dell'Aquila, si partiva da Bazzano e si va verso Rieti. Mentre la squadra di Perrone sta preparando nei minimi particolari la gara di andata dei play-out contro i Rimini del prossimo 21 maggio, nelle ultime ore si è alzato un nuovo polverone in casa l'Aquila. Ad accendere la miccia è stato l'ex terzino Cristian Chirieletti, fresco di rescissione dopo lo screzio avvenuto in aprile con alcuni tifosi aquilani, a seguito della sconfitta contro il Siena, nelle vicinanze dello Stadio Fattori. Un tafferuglio costato al giocatore il Daspo, pene inflitta anche a suo padre e ad otto ultra rossoblu. Chirieletti ha voluto commentare sulle colonne di una testata online il comportamento del club rossoblu, spiegando come l'Aquila abbia raccontato solo cose convenienti, quando invece mi dicevano di star tranquillo perché avevano parlato con i tifosi e chiarito il tutto. Poi mi hanno invece comunicato che il contratto era rescisso, senza spendere una parola, senza chiarire mai niente, quando invece sarebbe bastato un reale colloquio con i tifosi. Non è tardata ad arrivare nel pomeriggio di ieri la piccata risposta del club, per voce dell'amministratore unico Antonio Ranucci. L'esternazione di Chirieletti, oltre ad essere stata inopportuna, contiene anche molte inesattezze. La situazione ambientale lo preoccupava molto. Di fronte a questa e ad altre inconfutabili motivazioni, il giocatore ha spontaneamente accettato l'evidenza per la quale non vi erano più le condizioni per proseguire il rapporto. Ci siamo salutati affettuosamente, con la promessa da parte mia che se avessi potuto favorire una conciliazione di natura giudiziaria tra il giocatore e i suoi familiari di tifosi lo avrei fatto. Ribadisco l'infondatezza e l'inopportunità delle sue parole, con le quali ha riportato male i fatti nei quali, volente o nolente, è parte integrante. Intanto sul fronte squadra l'Aquila giocherà domani un amichevole in famiglia con la Berretti. Sarà l'occasione per valutare il pieno recupero degli infortunati, tra cui il centrale difensivo Emanuele Pesoli, tornato in settimana stabilmente in gruppo. Una giornata all'insegna dell'epopea del ciclismo. Dopo soli due giorni dal passaggio del Giro d'Italia, domenica 15 maggio, si correrà la prima edizione della Gran Fondo Città dell'Aquila. Un evento del genere non era organizzato in città da lontano 2006. La partenza è prevista alle ore 9 dal viale di Collemaggio. All'arrivo verrà offerto un rifocillante piatto di pasta per circa mille persone tra atleti e partecipanti. La manifestazione, con una forte ricaduta sul territorio aquilano in termini di visibilità, sarà valida come prova del circuito Giro d'Italia-Wisp. La Gran Fondo Città dell'Aquila si svolgerà su due percorsi, uno lungo di 127 chilometri con dislivello di 1960 metri, mentre un altro medio di 83 chilometri con il dislivello di 1180 metri. La corsa è aperta a tutti i possessori di una tessera ciclistica di ambo i sessi che abbiano compiuto i 15 anni di età. Tesserati alla Wisp, settore ciclismo, FCI o ad un ente di promozione aderente alla consulta nazionale del ciclismo o in possesso di tessera internazionale riconosciuta dall'UCI. Ai cicloturisti di qualsiasi età e a tutti i minori di 19 anni è consentita la partecipazione esclusivamente al percorso medio. Grande successo intanto finora per quanto riguarda le iscrizioni. Come ci spiega l'assessore allo sport del Comune dell'Aquila, Emanuela Iorio. Già due giorni dalla gara sappiamo che ci sono sicuramente 400 iscritti che naturalmente molti di loro porteranno le loro famiglie qui all'Aquila, già hanno cominciato ad arrivare diversi nuclei familiari. È una ricaduta importantissima sia dal punto di vista proprio di far conoscere i nostri territori a tante persone che verranno da fuori sia per quanto riguarda proprio anche l'economia della nostra città perché se intendiamo la Gran Fondo così come intendiamo che sia il primo step di un lungo percorso, ci auguriamo che continuerà anche negli anni, pensiamo appunto di riuscire a far sì che questa Gran Fondo Città dell'Aquila diventi uno degli eventi nazionali importanti e quindi sarà inserito in un circuito con notevoli ricadute economiche sul nostro territorio e sulla nostra città.